Se vuoi sacrificare tutti i tuoi venerdì, tutti i tuoi sabati, tutte le tue domeniche, non vuoi mangiare a casa, riesci a portare ogni mese anche intorno ai 1200 euro l'ordi, a cui devi andare a togliere. Il 20% di reti tenuta appunto se non hai la partita IVA. Se hai la partita IVA devi andare a togliere sia l'IVA, ma devi andare a togliere anche tutta la parte legata ai contributi. E in tutto questo la benzina, il motorino, il cellulare di cui devi pagare il traffico, quindi tutto sommato non è proprio una bella vita. Se lavori di meno, guadagni di meno, la media è di lordi, presentativamente tra calcoli fatti ti trovi intorno ai 7 euro e 58 euro all'ora. Presentata in sala giunta con il sindaco Luigi De Magistris e gli assessori al lavoro e ai giovani Monica Bonanno e Alessandra Clemente, la carta dei diritti dei riders e dei lavoratori della Gig Economy è il risultato di un percorso avviato da alcuni mesi con le organizzazioni sindacali per ribadire la necessità di una discussione pubblica sulla cultura del lavoro e promuovere la crescita dell'economia digitale. Questa è una tipologia particolare, noi li chiamiamo, da detti ai lavori, working poor. È la prima volta che il Comune di Napoli affronta questo tema e lo abbiamo affrontato, crediamo, nel miglior modo possibile, ovvero innanzitutto con loro, quindi con i ragazzi, i giovani, spesso anche adulti, che affrontano un'economia particolarmente fluida, che non garantisce tutele e tale per cui non può essere accettata da un'amministrazione come la nostra. Poi l'abbiamo condivisa con le organizzazioni sindacali in modo da stare nel solco del dettato costituzionale che favorisce il dialogo e favorisce l'integrazione delle riflessioni. L'obiettivo è migliorare le condizioni di lavoro dei riders, coloro cioè che effettuano attività di consegna a domicilio gestita attraverso piattaforme digitali e stabilire, a prescindere dalla qualificazione giuridica del rapporto di lavoro, standard minimi di tutela per lavoratori e collaboratori. Deve essere prima di tutto dignità, deve essere la possibilità di non dover rischiare ogni sera quando si scende per correre, per fare una consegna in più. Perché se un sabato sera io non scendo e non corro, la settimana dopo ho meno ore di lavoro, non ho nulla di fisso, nulla di presente, non ho rappresentanza sindacale, non abbiamo una rappresentanza di sicurezza sul territorio. Se uno di noi si fa male deve mandare un messaggio e deve andare da solo all'ospedale. Se non esistesse la nostra union, molti di noi avrebbero passato brutti momenti da soli. E siamo 50. Siamo solo una minima parte dei lavoratori che sono in media intorno alle poco meno delle 2000 unità su tutto il territorio napoletano. Napoli è ancora una volta città dei diritti e quindi è il diritto al lavoro. Vogliamo essere in prima linea insieme ai sindacati e ai lavoratori per costruire la carta dei diritti di questa nuova forma del lavoro. Quindi diritto a un lavoro giusto, ben compensato, sicuro, senza discriminazioni, con il diritto alla salute garantito, alla reputazione, una carta importante. Adesso ci vuole la voce dei datori di lavoro, ma ancora una volta Napoli, come ho detto anche al Ministro del Lavoro l'altro ieri, in prima linea nell'attuazione dell'articolo 1 della Costituzione che mette il lavoro al centro della nostra democrazia. Una pagina di diritti a persone che le multinazionali utilizzano invece come dei veri e propri oggetti. Ed è oggi anche l'occasione di iniziare da Napoli un processo forse di sensibilizzazione. Dietro quel pacchetto caldo che ordiniamo a casa di un panino o di un pasto veloce da consumare c'è la dignità di una persona e c'è la voglia quindi insieme come città sempre di essere dalla parte dei diritti di chi lavora per far modo che il lavoro sia sempre una dimensione di dignità e mai di precarietà.